Il Negroni nasce al Caffè Casoni di Firenze dall'incontro di un conte, il conte Negroni appunto e il barman Fosco Scarselli. Il conte chiede al barman Fosco Scarselli di aggiungere una dose di gin al suo americano per omaggiare i suoi viaggi londinesi e quello che per il conte era il solito divenne per gli altri l'americano alla moda del conte Negroni. E' da qui il Negroni. Mettiamo il ghiaccio nel nostro bicchiere, raffreddiamo il nostro bicchiere, scoliamo l'acqua in eccesso. Versiamo 30 ml di gin, poi mettiamo 30 ml di vermouth rosso. Alla fine 30 ml di bitter. Andiamo ad amalgamare gli ingredienti, a raffreddare e a diluire. Decoriamo con una fetta d'arancia. Grazie a tutti.